Ciao a tutti ragazzoni, bentornati su AT Gaming Perché questo vlog? Beh, mi sembra logico per presentarvi la nuova stagione di Cero Zombie La terza stagione Penso che la faremo uscire la prossima settimana Quindi oggi è venerdì, la prossima settimana penso Se riusciamo a finire di registrare la prima puntata entro lunedì o martedì La troverete online Ve lo voglio, cioè ho fatto questo vlog per annunciarvi alcune cosette Tipo, stiamo facendo i poster tipo questo Non so se si vede inquadrato Però con una nuova immagine direttamente fatta per la terza stagione dal nostro amico E non solo, ma stiamo facendo anche le magliette Noi abbiamo deciso di non vendere né le magliette né i poster Ma diciamo di, se qualcuno li vuole Faremo pagare soltanto il costo e la spedizione Cioè noi non ci vogliamo guadagnare nulla A noi ci costano un euro E la spedizione non so se sia 2 euro, 3 euro per tutta Italia Quindi nel senso, se qualcuno volesse il poster che ora vi mostrerò E la maglietta con la stessa immagine del poster Se qualcuno la vuole Faremo pagare soltanto il costo per farlo stampare Per spedirlo, ma noi non ci vogliamo guadagnare nulla Allora, i poster e le magliette si possono avere O così, questa è la nuova immagine che abbiamo fatto Per la terza stagione E proprio per tutta la serie Tower of Zombie Questa sarà l'immagine che vi verrà stampata sulla maglietta La maglietta bianca e l'immagine questa Al centro della maglietta Oppure Maglietta rossa con questo Comunque La Rossa con lo zombie nero E la scritta c'era zombie, così Così si possono vedere sia i poster Stampato 1 O 2 Come quello che vi ho fatto già vedere prima alle mie spalle Oppure la maglietta bianca Oppure rossa Se qualcuno di voi le volesse Vi metterò poi Nella descrizione, penso, della prima o della seconda puntata della serie Oppure farò un altro vlog proprio apposito Con tutti i costi per le magliette e per i poster Comunque Questo vlog è stato fatto perché Volevo presentarvi la nuova sigla Della terza stagione Spero vi piaccia E spero che seguirete in molti la terza stagione Un saluto a tutti da Comando Wolf Ciao ragazzoni Grazie a tutti